La sala montata la conosciamo tutti, se vorrete ne possiamo parlare anche in modo un pochino più approfondito. Ma in estrema sintesi la sala montata è il complesso delle due ruote e dell'assile di un veicolo ferroviario. Acciaio quindi, acciaio fuso in uno stampo e calettato. L'acciaio è una lega composta da ferro e da carbonio, anche se quest'ultimo non ha una percentuale superiore al 2,06%. Quindi ferro, elemento chimico con numero atomico di 6, dal latino ferrum, è stato così importante per la storia dell'umanità che gli è stata anche dedicata un'era. Un'era storica ben precisa. L'età del ferro. Utile, maleabile, quotidiano, ma decisamente non intelligente. Sì, tutti gli elementi in natura si muovono, ma non tutti pensano. Far pensare il ferro sarebbe rivoluzionario. Pensate solo nel campo della manutenzione predittiva degli elementi di usura dei veicoli. Che genere di cambiamento porterebbe? Maggiore efficienza, minori costi di produzione e manutenzione, maggior qualità e minor spreco. Sì, questo succederà forse tra mille anni. Forse. O forse no. Io non lo sapevo, ma girovagando per la rete ho scoperto che già da qualche anno un'azienda italiana di Bergamo ha realizzato una tecnologia che, servendosi di dati realizzati da un sistema di sensori di bordo, riesce a rilevare i carichi a cui la sala è dinamicamente sottoposta. Hanno creato la sala intelligente. Chi è il suo inventore? La Luchini Rolling Stock, azienda leader di fornitura di sale montate, che ha sviluppato nel suo centro di ricerca di lovere un sistema intelligente da applicare potenzialmente su tutti i tipi di sale. Misura, misura in modo dinamico fino a 350 km all'ora. Ma cosa misura? Misura carichi dinamici, accelerazioni, flessioni, torsioni, anche il livello di glicerolo nel sangue, se glielo chiedi. Ma come funziona? I sensori al suo interno collegati ad un elaboratore rilevano i dati delle sale e tramite un complesso algoritmo, e complessi calcoli ovviamente, viene misurata la capacità della sala di resistere alla fatica. Permettendo quindi di poter programmare in modo dinamico e regolare gli intervalli di ispezione, diminuendo il rischio di incidenti. E da chi dice che il progresso porta solo a cose brutte, ecco come la tecnologia può salvare vite, colmare distanze e illuminare il buio dell'ignoranza con la luce della conoscenza. Che frase! Grazie, ci vediamo dall'altra parte!